Per la serie Le grosse smentite del Tg Porco, qualche tempo fa il Tg Porco aveva accusato i petrolieri di voler bombardare i mari della Sicilia, abbiamo ricevuto una secca smentita dai petrolieri che ci tengono a sottolineare che stanno distruggendo anche i mari della Sardegna, tutti i mari della costa tirrenica, i mari della costa ionica e i mari della costa adriatica, scusate per l'imprecisione. Grazie